Vintage, artigianato, vinili, libri, fumetti, giocattoli d'epoca, action figure, ma anche abbigliamento, accessori, televisoria, cinescopio, macchine fotografiche, computer e videogame d'epoca. Un viaggio nella memoria storica alla ricerca di vecchi oggetti posseduti da bambini, ma anche di fumetti più recenti come i manga. Curiosi e appassionati, 370 espositori provenienti da tutta la Puglia per Vintage Market Bari, in corso sabato e domenica nel padiglione 20 della Fiera del Levante. Bidonville Winter Store, organizzatore dell'evento tra i beneficiari del bando di Bari 2022-2024, un negozio, non è solo un negozio, che rappresenta un modello di collaborazione per animare la scena sociale e culturale cittadina. Siamo partiti col botto, subito tanta gente che aspetta questo evento tanto atteso, perché è il più grande, penso, di Puglia, dove raccogliamo 170 espositori che arrivano dalla nostra regione e anche da fuori. Sono per lo più collezionisti, ci sono vari settori, quindi dal vintage al collezionismo, all'artigianato creativo, al modernariato, al riciclo, tanti artisti. Centinaia di visitatori, anche stranieri, che non hanno resistito al richiamo di una delle fiere più attrattive e che quest'anno ispirata al tema dell'ambiente e dell'economia circolare, lo slogan dell'ottava edizione, Vintage is the way to save planet. In particolare siamo venuti soprattutto per gli abiti, sì, vintage. Infatti lui, già mio figlio, ha comprato dei jeans, poi un fumetto. Tutto ciò che è una storia mi attira.